In sintonia con l'anno che la Chiesa sta celebrando, ringrazio quanti ci sono stati vicini spiritualmente. In questa seconda domenica di Quaresima, cari fratelli e sorelle, ho appreso con profonda tristezza le tragiche notizie delle recenti uccisioni di alcuni cristiani nella città di Mosul, mentre saluto gli iracheni presenti qui in piazza, esorto la comunità internazionale a prodigarsi per dare agli iracheni un futuro di riconciliazione e di giustizia. Il mio pensiero va inoltre al Cile e alle popolazioni colpite dal terremoto.